Con un comunicato ufficiale l'Arezzo ha comunicato che di comune accordo non andrà avanti il rapporto tra la società e Stefano Sottili, si conclude questo percorso di comune accordo dice la società. Sì, perché con l'epilogo finale del campionato e la contestazione che si era venuta a creare a fine gara con la Lucchese, probabilmente, perché poi dopo la riprova assoluta non ce n'è, sarebbe stato il caso, forse la soluzione migliore. Sei stato un anno qui a D'Arezzo, secondo te cosa manca in generale a questa piazza per fare un ulteriore salto di qualità? Per fare un ulteriore salto di qualità vorrebbe dire lottare per il primo posto, quindi se tu vuoi alzare ancora l'asticella, per alzare l'asticella vuol dire la possibilità, visto che a me era stato chiesto di stare costantemente nei primi 5 posti, bisogna rendersi conto che se vuoi lottare per il primo posto devi avere una disponibilità economica diversa e devi avere delle strutture diverse. Non è un alibi, non sono scuse, perché io sapevo di queste difficoltà quando ho firmato per l'Arezzo, come sapevo che sarebbe stato fatto tutto il possibile per migliorare questa situazione anche durante la stagione, ma non c'era la certezza di poterla migliorare. Quando siamo partiti ho fatto sei viaggi in Casentino con persone diverse, con Caneschi, con Brandini, con i magazzinieri per andare a trovare la sede del retiro. Siamo partiti da zero, con due giocatori soli sotto contratto, Sabatino e Masciangelo. Il percorso fatto è un percorso, secondo me, estremamente positivo per la proprietà, per la società e per il lavoro che ha fatto lo staff tecnico. Il lavoro che ha fatto lo staff tecnico con i giocatori a disposizione, tu lo valuti in due cose. Lo valuti per il risultato che è stato ottenuto, chiaramente in campionato, lascia stare la partita secca che poi incide, però nell'arco di 38 partite hai una valutazione più appropriata rispetto alla gara secca che ti può avvenire anche in un momento particolare della stagione. E' quanto hanno reso i giocatori per quello che i giocatori avevano dato nelle ultime due o tre stagioni. Penso a Moscardelli che ha fatto una stagione straordinaria ma ha fatto tanto meglio rispetto alla passata stagione a Lecce. Penso a Corradi che ha fatto una stagione molto positiva. Negli ultimi due anni aveva fatto due retrocessioni con l'Albino Leffe e con il Cuneo. Solini l'anno scorso ha fatto dieci partite a Renate, si sono salvati l'ultima domenica. Luciani è salvato al play-out con il Monopoli. Quindi queste valutazioni credo che debbano essere fatte. Qualche giocatore ha reso un pochettino meno rispetto a quello che secondo noi poteva dare. Ma a livello generale la rosa, la squadra, ha reso molto di più rispetto alle ultime due o tre stagioni che a livello individuale hanno fatto.